Ok raga, eccoci qui, andiamo a fare subito Omicol e parliamo con le persone su Omicol E a prossima, quando mi scarico l'app sul cellulare, scarico Ometv Prima andiamo su internet, su Google, a scrivere Omicol e andiamo su Omicol a parlare con le persone Quelle che mi conoscono, anche quelle nuove e quelle che mi conoscono, che sono i miei fan Vi voglio dire, mettete mi piace, seguitemi, quando vedete saluto al canale, attivate la campanella Bello tutti i ragazzi, eccoci qui per il vostro Enrico Pasquale Pratico E l'accendo sulla O Ho 29 anni, sono di Motta Sanioanni, provincia di Reggio Calabria Sono il numero 1, comando io e sono il maestro Sono una leggenda, sono famoso, sono il migliore, sono il di Youtube Il re di Youtube, grazie a tutti Saluto Mericola J, Luce del Nord, Assunta, Alecola X Vi voglio dire uno fatto Io non sto parlando più con quella persona là che saluto sempre Con Paolo di Telegram Non sto parlando più, non li voglio bene Non lo voglio salutare, non li voglio bene più Non sto parlando più con lui E niente, io sono contento, voglio stare con voi, vi voglio bene E voglio fare questo video, ora Sta caricando quello, quando finisce quello metto questo Ok? O faccio due, ho tutti i giorni, no, tutti i giorni i video Per voi, così porto i contenuti E Johnzina Ion Menzini e Kukusattamamau Io sono qua Con la felpa di Youtube Quella, ecco Piccolo, scritto Youtube e arrero grande E andiamo a prendere il cellulare E facciamo un micol E parliamo con le persone E quando scarico su Play Store Home TV È lo stesso come un micol E cambia Home TV Là puoi cercare la lingua No, i paesi Tanti paesi che parlano inglese, francese, italiano Home TV Home TV puoi parlare con tante persone Strane, bravi Ci sono quelle che sono i miei fan Voi siete i miei fan Io sono il vostro ito Ricordatevi Baci, andiamo dai Mettiamo pausa Cominciamo a fare un micol Che su Telegram Mi ha chiamato una ragazza E devo rispondere Facciamo veloce un micol Quando metto pausa E mi chiama lei Rispondiamo E vediamo che dice E registro la chiamata E mi ricordo Dai Ah, e voglio dire Mi sperdiamo una cosa Così facciamo veloce un micol Qua sotto I sub della domenica Carico il gameplay dei giochi Andate tutti Mettete pausa Così dopo lo guardate qua Andate lì Guardate i giochi C'è il link I sub della domenica Dopo tornate Guardate questo C'è anche Amazon Che metto tutti i giorni Qualcosa su Amazon E ci sono quell'altro link Ma datemi qualcosa E io le faccio le storie Come ho fatto oggi Faccio le storie Faccio un video così Ho detto tutto E andiamo a fare un micolo Dai Saluto Fabio Valentina Mausen3 Over Antonio Jody Simone Davide Rubino Cristiano Bartovello Baci A tra poco Dai Ok Eccoci qua Mi ricordo Facciamo anche Il segreto Mi ricordo O lo faccio la prossima Andiamo Guardo io prima Che non esce qualcosa strano C'è il segreto C'è il segreto Volevo salutare quella ragazza, vabbè. 17 anni, Vano, vado. Cazzo è? Ciao. Vabbè, mi dissocio quello che ha detto quella ragazza o quello ragazzo, mi dissocio. Forse parlavano con loro, forse in chiamato, non lo diceva a me. Raga, finiu quasi dicembre. Domani è capodanno, domani è sera. Mi dissocio, sto, vabbè. Gesù, madonnina, aiutami, non so che stava facendo quello. Guardiamo. Vabbè, mi salutare e lei è andata avanti. Vabbè, vede sempre... Non mi vede con la faccia, vede la telecamera. Loro non sanno che quella è la telecamera. Va bene. Andiamo a fare questo video che spacca un micol. Vabbè. Mettiamo un minuto pausa e arrivo. Ah, raga. Vi voglio dire una cosa. Ora cominciamo a vedere altre persone e parliamo. E queste persone qua vedono solo la schermata qua. Non vedono a me. Io faccio così. Guardo prima io e dopo lo giro a voi. Parlo così o sentono la mia voce. Ci sono quelle che vanno avanti. A me mi piace portare un micol su YouTube. E sono contento. Come le portano quell'altro. YouTube le le porto anch'io. Andiamo, dai. Mettiamo pausa. Non voglio camminare. Ora, raga, vi voglio dire che tanto mi è arrivato il primo calendario con le mie foto. Quello che mi hanno fatto. E oggi, la giornata, mi è arrivato un altro pacco con tre. Tre calendari con le mie foto. Aspettate, andiamo a fare un micolo che dopo racconto delle storie. Dai. Ok, andiamo. Vediamo. Ciao. Perché scrivi? Devi parlare. In questa URA ci sono persone, quelle che mi conoscono. Ci sono o stanno lavorando o studiano. Ciao. Va bene. Ho salutato io. Vado avanti che devo registrare. Parlo con le persone. Ciao. Va, lo pubblico lo stesso questo video. In questo video, le persone sono pegnate e parlo. Va bene. Lo pubblico lo stesso. Guardiamo. Sono qua. Ciao. 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 Va bene. Loro vogliono... Le persone che parlano inglese, francese, sentia. Ciao. Sì, vabbè, fu io. Mi dissocio. Guardiamo. Ciao. Aspettate, raga. Arrivo. Oh, raga, vi dico di nuovo. Che io, a Paolo di Telegram, non lo sto sentendo più. E non lo voglio bene. E boh. Andiamo a fare finale. La voglio fare. Finisco qua, dai. Vediamo. Come va? Ciao. Ciao. Io ho 29 anni. Mi dissocio. Se ero una ragazza, mi ha detto quante anni ho. Va bene. Mi dissocio YouTube. Va bene. Oh, raga. Domani sera del Capodanno che fate? E vedete il video che lo sto facendo ora. Mi dissocio. Mi dissocio. Io, vabbè, che stava facendo quello? Vabbè, mi dissocio io, ma non è la natura orba. Non mi rompe di catanazza, raga, dai. Prendo la catapulta e vi butto fuori. Cacca catapulta. So parlare. So parlare, sono italiano con la presa e il dialetto. Seguitemi. Quando vedete, iscrivetevi al canale, a TV del campanale, bello a tutti i ragazzi. Un like. Sono qua. Qua sotto c'è i giochi dei gameplay, il sabato e la domenica, carichi i giochi. Qua c'è il link di Amazon che tutti i giorni metto qua cosa. Ci sono anche quegli altri link. Mandatemi i pacchi e fatemi contento. E io faccio un video così, ho le storie. Dai. Dai, dai. Andiamo a finire questo video, dai. Dai. Vediamo. Vediamo che vengono. Ciao. Ciao. Sì, sono io. Vabbè. Ma ha detto, mi conosce e fu io. E ha fatto rossito. Sì, rossio. Vabbè, mi disso. Ha detto il mio nome. Vediamo. Sì, rossio. Ciao. Ciao. Ammazza che pregno. Come ti chiami? Sono Enrico. Perché ti fai vedere così? Perché sto guardando la televisione. Ah, Enrico, quanti anni hai? Eh, sono grande, ho 29 anni. Ah. E cosa fai insomma, micro di bello? Eh, cerco ragazza sex. Ah, cerco ragazza sex. Sì. Wow. Non sai... Non l'hai trovata. Tu non sai chi sono io. Sei? Sono quello che faccio video su YouTube. Sei Enrico? Sì, sono io. Quello ragazzo che mi presentavo quello vecchio video 2014. Quale? Eh? Quale? Quello... Quelle ragazze mi piacciono. Biondi, macri, silk. Ma ne abbiamo 13 anni. Non abbiamo... No, no. Io mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio. Ma non abbiamo 13 anni. Sì, invece. Ne abbiamo 17 anni, in essenza. Brava, brava. Eh. Ma... Lei è la mia sordina di qua. Ma... Ma... Come ti chiami su YouTube? Mi chiamo Enrico Pasquale Pratico Ufficiale. Enrico Pasquale Pratico Udutti e la censura ufficiale. Ah, ho visto! Oddio! Hai 699 video. Ciao. Ah, ciao Enrico! Eccoci! E c'è chi? Come è che hai detto ragazzo, sexy? Sì, sexy, macra, sicca. Ma ho visto nella fotoprofilo che c'è davvero l'amorosa. Eh, no. Quella è una mia fan. Ah, è la tua fan. Sì. Certo. Quanti qualunque hai? C'ho... Aspetto e lo trovo. Ma tu abiti da solo? Eh, sì. Sono di Motta San Juan e provincia di Reggio Calabria. Ah, è il tuo Calabria! Sì. Io sono di Milano. Milano è un posto bellissimo. Come beh? Anche tu sei una ragazza dolce, carina, bellissima. Grazie. Ma se non la vedi! Vabbè... Sento la sua voce sex. Sexy. Ma movimento sexy. Sì. Ma, 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 ma... Enrico, balliamo tutti insieme il movimento sexy. Dai! Sex. Tu e dan. Io mi dissocio. Ma dai, Enrico, non puoi dissociarti da tutto, però. Ah, ok. Scusami, gioia mia. Ma non balli? Ballo. Aspetto un minuto. Che non prende la connessione. Sì, fu io. Va bene? Mi dissocio YouTube. Andiamo avanti, dai. Quelle due ragazze, se la vim, la voglio dire, hanno visto qualcosa su YouTube. Va bene. Faccio questo e chiudiamo il video. Vabbè, andiamo, basta, dai. Ok, raga, eccoci qua. Guardate. Che figo sono. Un figo sono. Vabbè. Io vi voglio bene. Grazie a tutti. E raga, ricordatevi che io non parlo più con Paolo. Che non vi voglio bene. Non lo sento più. E un saluto a tutti e grazie a tutti quelli di Omicol. E alla prossima di Omicol Home TV. Lo scarico su cellulare o in un'altra parte. E niente, io vi voglio bene. Tutti i miei fan. Io sono il vostro idolo. Ricordatevi, qua sotto c'è il link di Amazon. Aspetta, no qua sotto, qua. Qua c'è il link dei gameplay, i giochi, che porto il sabato e la domenica. Andate tutti a vedere i giochi e venite qua, che porto belli contenuti. Il link di Amazon è qua, che porto tutti i giorni qualcosa e metto, così mi mandate i pacchi e mostro o un video così o le storie. Ci sono anche quell'altro link, mandatemi e mi arrivano o con il postino o con il correo. Mandatemi i pacchi, io sono sempre qua. Ricordatevi che io non lavoro più un giardino, zappavigna. L'ho venduta, no l'ho venduta, ce l'ho e la do a voi. O quando sono fidanzato, o quando sono sposato, o quando ho i figli, la do a loro o la volete voi. E niente, vi voglio bene, si deve ridere, un sorriso a tutti. Chiudiamo qua, che l'ho fatto troppo lungo. Buonasera e alla prossima. Sta caricando il video su YouTube, state tranquilli, ok? Non fate i scemi, fate i bravi e fate i cattivi. La, voglio dire, il telefono suona, raga. Vi chiudo il telefono, la, chiudo la registrazione. Alla prossima, raga. Ciao, raga. Il telefono, rispondo. Ciao, ciao.